ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video come vedete dal titolo oggi sono a pofabro vi ho portato con me perché sono qui perché ogni anno questo piccolo borgo che è tra i più belli d'italia si popola di presepi penso siamo intorno alla ventesima edizione comunque o comunque ci siamo vicino e ogni angolo del borgo è addornato da una serie di presepi fatti a mano generalmente di qualsiasi tipo quindi ho pensato di portarvi con me alla scoperta di alcuni di quelli di quest'anno e e 3 4 5 6 8 10 11 12 13 13 13 14 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 19 19 20 20 21 22 22 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 27 27 28 28 27 25 28 25 25 26 28 29 29 25 28 30